Pioneer XDJ-XZ White Limited Edition Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude è appena uscita la nuova Pioneer XDJ-XZ colore white bianco in edizione limitata, così limitata che al momento in Europa non arriverà, andiamo a vedere Sì è tutto vero Pioneer ha fatto uscire il sistema DJ All-in-One XDJ-XZW, ossia white, in edizione limitata per record box e serato DJ Pro con una finitura bianco brillante L'XDJ-XZW inoltre è dotata di jogwheel in alluminio con una finitura sottile di alta qualità ma dopo l'esaltazione finale c'è la delusione che questo modello non è commercializzato per l'Europa infatti questo modello è disponibile per l'Asia, del Pacifico, le Americhe e America Latina solo con un prezzo consigliato di 2499 dollari tasse escluse così è scritto sulla pagina ufficiale Instagram di Pioneer DJ sul sito che andiamo a vedere entrambe ma prima di andarle a vedere e capire se ci saranno delle innovazioni rispetto alla versione classica devo ricordarvi dei corsi per DJ della SOS4DJ Academy corsi che potrete fare tutti con il sottoscritto direttamente in video live non registrato nessuna dispensa come potete fare? potete contattarmi tramite il canale ufficiale corsidjproducer.com compilando il form oppure tramite la pagina Facebook e la pagina Instagram contattatemi in privato ma solo per chi vuol fare corsi, lezioni e consulenze private per tutto il resto ci sono i commenti qua sotto anyway ci siete? questa è la pagina ufficiale Instagram di Pioneer DJ dove fanno vedere queste due immagini di questa XDJXZ sistema professionale per record box e serato DJ Pro ora disponibile in edizione limitata a colori mentre sul sito ufficiale eccola qua dove viene presentata proprio la XDJXZW quindi white e andiamocela a vedere finalmente in tutto il suo splendore certo che veramente bella Alfa Teta Corporation annuncia il rilascio del nuovo XDJXZ white dal suo marchio Pioneer DJ questa nuova versione del popolare sistema DJ professionale all in one per record box e serato DJ Pro è disponibile in una finitura bianco brillante che conferisce un aspetto accattivante e incontaminato e va bene per qualsiasi evento, luogo, studio insomma se sta cercando una configurazione professionale Pioneer ti suggerisce questa macchina con una struttura robusta un suono di alta qualità, un aspetto unico il nuovo modello bianco è perfetto per concerti e installazioni in cui vuoi stupire il pubblico che sia una lounge, un bar, festa private o anche un ambiente all'aperto l'XDJXZ white include tutte le funzioni e le prestazioni dell'XDJXZ originale e lo vedete perché è uguale che sono state editate direttamente dall'attrezzatura professionale Pioneer DJ collega le unità USB caricate con i brani analizzati da record box o collega il tuo computer per utilizzare le funzioni di performance di record box o anche la modalità link export come detto l'XDJXZ white sarà disponibile in regioni selezionate disponibile solo in specifici negozi al dettaglio in Asia Pacifico, America e America Latina quindi non disponibile nelle regioni EMEA cioè Europe, Middle East and Africa al prezzo di 2499 dollari oltre a questo problema che non sarà disponibile che vedremo se resterà definitivo molti si lamentano del fatto che dopo tre anni di uscita di questa ammiraglia Pioneer DJ non si sia pensato anziché colorare l'XDJXZ di bianco di fare una XDJXZ 2.0 Reloaded Remix come volete aggiungendo le funzioni per esempio inserite nella XDJ RX3 come lo schermo o altro e ovviamente la mentele per quel che riguarda il prezzo che a distanza di tempo rimane altissimo perché attualmente la quella normale che lo sia intorno ai 2.199 questa dovrebbe andare a 2.499 più tasse, vabbè, dollari però questo sarebbe circa 300 euro in più ed in più il problema delle consegne che come saprete tempi biblici di consegne lunghissimi già da più di un anno su alcuni modelli per il problema dei chip ne avevamo parlato e anche e poi insomma perché Pioneer probabilmente non ha fatto delle scorte adeguate e considerato le vendite che ha insomma tempi lunghissimi gente costretta a comprare e altro aia 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 che pacco anyway per utilizzare l'XDJ XZ W con il record box scarica gratuitamente l'ultima versione del software idem per serato DJ Pro le caratteristiche principali di questo bestione ricordiamole sono le jog wheel di dimensione standard che rendono il mixaggio lo scratching proprio come se stessi usando un CDJ e grazie all'on jog display puoi tenere d'occhio più importanti informazioni sui brani tramite lo schermo a colori al centro di ciascuno tutti i knob e i controlli che vedete sono disposti allo stesso modo di quelli di un setup professionale puoi mixare con 4 canali e aggiungere consistenza alle tue performance con tutti i 14 bit FX che troviamo qua più i 6 sound color FX classici del DJI M900 Nexus 2 supporto per vari media e diversi stili di performance l'XDJ XZ White ti dà la libertà di suonare come vuoi collegare le unità USB caricate con i brani analizzati da Rekordbox inclusi file FLAC oppure collegare il tuo PC barra Mac per utilizzare le funzioni di performance di Rekordbox puoi persino riprodurre i brani riprodotti dalla libreria di Rekordbox tramite link export quindi non è necessario caricare le playlist dal tuo computer alle unità USB e poi introdurre anche l'audio da fonti esterne poi collegare giradischi come vediamo qua Fono dietro campionatori smartphone e altro ai canali 3 e 4 e se vuoi esibirti con Serato DJ però tutto ciò che devi fare è collegarti a un PC a un Mac che può eseguire il software ma avrai bisogno di utilizzare una licenza per Serato DVS suono di alta qualità equalizzatori multipli equalizzatore a tre bande sull'uscita Maxer e su ciascuno degli ingressi microfonici che è facile regolare il suono per entrambi le entrate microfoniche Pro DJ Link sincronizza perfettamente le apparecchiature esterne per ampliare le opzioni creative con questo supporto potrai collegare apparecchiature esterne come unità CDJX CDJ DJS 1000 ai canali 3 e 4 e sincronizzare l'audio con il tuo mix utilizzare lo schermo dell'XDJ XZ White o quello del CDJ per andare a sfogliare i brani sulle unità USB collegate ad una delle unità touchscreen e on jog display a colori come abbiamo detto e compatibile con il record box e Serato DJ Pro ma tutto questo come detto purtroppo rimarrà almeno in Europa per il momento tutta una chimera e vediamo se riuscirà ad arrivare fatemi sapere anche voi nei commenti qua sotto se vi aspettavate questa mossa per il mercato questa politica aziendale che ha scelto di escludere nel mercato europeo quindi non solo l'Italia ma tutta Europa e poi cosa ne pensate di questa macchina White Edition corsi per DJ corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact compilando il form oppure tramite la pagina Facebook e Instagram mi raccomando contattatemi solo per chi vuol fare corsi e lezioni e consulenze private per tutto il resto ci sono i commenti qui sotto per chi sono indicati i corsi per chi inizia da zero per chi è già bravo e vuole migliorarsi ma per chi vuole fare anche il salto definitivo di categoria verso il professionismo consulenze private su tutto ciò che riguarda gli argomenti di SOS4DJ quindi hardware software e tutte le problematiche legate alla regolarità del DJ e del produttore discografico oltre a Facebook e Instagram c'è anche il nostro canale Telegram potete iscrivervi è gratuito e con notifiche silenziose e chat interna se vuoi puoi aderire da subito eccolo qua il nostro canale YouTube puoi iscriverti e nessuno si farà male anzi se non l'hai fatto ci rimango malissimo io scherzi a parte puoi farlo cliccando qua oppure abbonarti vatti a vedere che cosa ti diamo in cambio questa corsia preferenziale ha un sacco di contenuti extra vatti a vedere il video che tutto è spiegato lì puoi attivare la campanella vuoi sapere tutto in anteprima quando escono i nuovi tutorial i nuovi spoiler le novità e tutto ciò che riguarda live streaming diretta del canale e poi anche mettere un mi piace o condividere con i tuoi amici se pensi che tutte queste informazioni possano essere loro utili ma ci puoi anche aiutare con il tasto grazie qua sotto lo vedete qua accanto al mi piace non mi piace grazie oppure sostieni SOS4DJ cliccando qua e ci puoi offrire un caffè una pizza una birra tutto ciò che ti fa piacere condividere con noi se pensi che siamo una risorsa utile e soprattutto a gratis bene XDJ XZ white insomma bene un po' meno bene perché non mi aspettavo che uscisse solamente per questi mercati quindi tagliata fuori l'IMEA quindi niente in Europa per il momento vedremo più avanti noi ve lo volevamo dire anche perché magari andate in Sud America o andate nel Pacifico nelle isole e trovate un DJ che suona con questi ma dove l'hai presa ecco noi ve l'abbiamo detto siete informati speriamo che arrivi in Italia magari vediamo se qualcuno ci fa un pensierino e riesce a farlo arrivare da qualche altro posto fatemi sapere la vostra opinione come sempre qua sotto nei commenti io vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una meravigliosa giornata da parte ovviamente di SOS4DJ e Claude vi ricordo l'iscrizione al canale per noi importantissima e fondamentale ma anche per voi per rimanere sempre informati su tutto ciò che accade nel mondo che vi riguarda ovviamente gratis e sempre sul pezzo ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio piripiripiri pipipipipipipipipipipip Grazie.